Non è una domanda semplice, sicuramente crescendo la mia concezione di cosa significa essere una donna è cambiata e adesso posso rispondere che noi donne siamo consapevoli di dover sempre dover fare di più, di dover dimostrare di più, soprattutto a noi stesse, però questo lo rende ancora più soddisfacente. Ciò che mettiamo in pratica ogni giorno è una grande responsabilità, però è anche una presa di potere da parte di noi donne in quello che siamo e quello che facciamo. Per me essere una calciatrice è una grande fortuna perché ho la possibilità di poter praticare ciò che è la mia più grande passione e soprattutto è un'occasione per mandare un messaggio positivo a chiunque mi segua. La mia idea di bellezza sta nel sentirsi bene con se stessi e credo che la grande bellezza sia anche nel sapersi guardare intorno e poter stringere la mano a chi affianca a noi. Vi dico la verità, il mio prodotto preferito, quello per il quale non posso fare a meno, è sicuramente il mio profumo, sempre scelto da papà che ovviamente oltre ad essere papà è il mio migliore amico.